Tu devi vedere perché devi ricordare. È la messa in scena drammatica della storia cavrigliese delle stragi nazivasciste del luglio del 44. Già rappresentata lo scorso luglio, la pièce rivivrà a teatro il 30 novembre alle 21.15 nell'ambito degli eventi legati alla festa dell'olio della città delle miniere. È successo che, come tutti sanno, i tedeschi hanno fatto dei restrellamenti e hanno trucidato un certo numero di persone. Quello che noi vogliamo rappresentare è più che altro a livello teatrale un racconto sceneggiato dei fatti perché possa restare nella memoria. Abbiamo dato un titolo, il titolo è Tu devi vedere perché tu devi ricordare, che riprende una frase detta da una nonna a un ragazzino quando tutto era finito, quindi nella piazza, soprattutto nella piazza 4 novembre di Castelnuovo dei Sabioni, i corpi degli ostaggi trucidati, erano ancora fumanti perché gli fu dato fuoco e questa nonna volle accompagnare il nipotino a vedere questo scempio. Il nipote disse nonna io non voglio vedere, lei gli disse no tu devi vedere perché tu devi ricordare.